Eccoci bentornati su Googames, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a fare un altro sacrario. Ci troviamo esattamente in questo punto qui, nei pressi della grotta ovest della gola Vapone e andremo a fare questo sacrario qui, sacrario di Jun Oroku. Quindi esattamente in questo punto qui, faccio vedere meglio, è a sud del borgo del Rito, molto molto semplice. E proprio qui c'è l'entrata alla grotta. Qui ovviamente fate saltare tutte le pietre. Qui trovate un nemico, fate attenzione, uno di quegli affari appiccicati al soffitto e like. Lì ovviamente spaccate altre pietre, qui ci sarà un altro like elettrico stavolta. Qui fate saltare tutto. E qua giù ci sarà il sacrario. Qui è molto molto semplice, prendete la palla e la buttate giù, ma eventualmente vi faccio vedere anche il secondo metodo. Potete tranquillamente sparargli una freccia. Con un fiore bomba appiccicato, è la stessa identica cosa, non cambia assolutamente nulla. Stessa cosa vale anche per gli altri. Ora vi ho fatto vedere questo perché è semplice, prendete la palla e la buttate giù. Prendete il centro per forza. Gli altri ve li farò vedere nella maniera tra virgolette canonica. Altrimenti, arco, freccia, bomba e si fa subito. E no, io credo che Nintendo l'abbia pensata così. Speriamo che in cieca dono di sotto, dovrebbero andare tranquillamente. Ecco qui. Qui appiccichiamo le tre palle. Semplicemente per crearci una scaletta. Poggiamo qui. Riverto. E saltiamo qui per aprire la cassa. Ci saranno dieci frecce all'interno, quindi insomma. Valutate voi. E poi prendiamo il tutto e lo spostiamo. Dovrebbero vietare l'uso delle armi all'interno dei Sacrari, anche perché va completamente a rompere il senso dell'enigma. Però... Qui dovremmo... Vediamo se ci esce. Non ci è uscito. Vabbè, qui dovremmo lasciarlo andare e dovrebbe... La palletta si dovrebbe girare e dovrebbe colpire il centro. Visto che chi se ne frega... Facciamo così. Se non vi esce... Siccome non è uscito a me a sto giro... La prima volta mi è uscito, ma ovviamente era una prova. Non stavo registrando... Per non stare a rifarlo e perdere tempo. Si può fare tranquillamente così. Però il senso è quello. Con la palla grossa fa leva. Da una botta a quella piccola che poi va a colpire l'obiettivo, diciamo. Però vabbè. Si raggira molto molto facilmente questo Tears of the Kingdom. Quindi, giovani, abbiamo preso un'altra sfera. Direi che per questo video è tutto. Grazie mille e alla prossima. Grazie mille e alla prossima.